bella ragazzi benvenuti e bentornati qui ad un nuovo evento locale a pomezia precisamente alla festa patronale di pomezia dove ci stanno un sacco di gente un sacco di attività precisamente questa sera ci sta un bel concerto con dove qui alle mie spalle stanno preparando però a vi faccio vedere cosa c'è qua ok quindi andiamo a vedere anche a qualche gente che vedo qua in giro che si sta iniziando a popolare un po di gente quindi andiamo a fargli qualche domande a qualche persona ovviamente dopo che come al solito già lo sapete vi siete iscritti al canale attivate a campanella mettete like commentate e fa tutto il cosco e dovete fare sempre dai e dai e dai con cui ragazzi iniziamoci come ho detto c'è sta un botto di gente anche di bancarelle tra cui un sacco di food quindi anche qui non non si muore di fame insomma iniziamo a vedere le prime bancarelle che ci facciamo un tour delle bancarelle e poi vediamo qualche dirige ma fargli qualche domande a qualche gente che sta qua in giro questi vendono i conigli questi vendono i motocicletti se volete andare a motociclette in giro venite qua e vi comprate la motocicletta vi comprate e quindi oggi siamo alla festa patronale di pomezia e già ieri ieri è stata la prima giornata venerdì e questa festa si potrà si si protrae con venerdì sabato e domenica oggi è sabato quindi teoricamente stasera ci dovrebbe essere proprio il casino da gente però la gente poi i banchi che si stanno iniziando a popolare infatti come potete vedere i banchi arrivano fino a in fondo fino in fondo lì alla strada arrivano infatti senza la musica ma ci stanno le bancarelle ovviamente ci stanno anche come ho detto e pannocchie se volete la pannocchia va a mangiate e insomma c'è anche un sacco di food bancarelle dove poter anche sparare siete dei cecchini potete sparare qua e fate cose un piccolo corso per imparare i bambini a fare inizia allora massimo 10 bambini già siamo a cuota 1 2 3 4 5 6 7 8 due bambini ancora mancano allora chi voleste partecipare può venire sotto la torre faremo impastare proprio a mano qui c'è come ho detto qua c'è stato sempre un sacco di food quindi il food prevale il food prevale oltre come ho detto anche c'è un sacco di bancarelle guardate raga non so se si vede c'è stato sole esagerato che arriva fino fino in fondo bancarelle che arrivano fino in fondo a strada raga non so se riesco a farmele a farmele tutte però vedete fino là in fondo c'è stata le bancarelle tutta sta strada tutta piena dei bancarelle quindi un botto dei già c'è anche parecchia scelta devo dire di bancarelle e ci stanno bancarelle anche per i più ci stanno anche bancarelle per i più sofisticati come libri anche giochi per bambini ci sta un bel po di roba devo dire oggi ho visto che c'è stata festa patronale che stanno a fare perché che che canta perché hanno montato il palco non lo conosco proprio che se fa ogni anno una festa quindi è la prima volta che vieni da ragazzino che ci sta da ragazzino che ragazzino sono dei promessi ok ho visto che c'è sta un sacco di area food dove se magna dopo qua non temori le fame di quello che hai visto oggi qua se hai visto qualcosa cose che ti piacerebbe da mangiare quello che c'è sta oggi i panini i panini il panino preferito dipende che c'è stato il tuo preferito hamburger e cose tutto ma c'è tutto tutto vegano 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 non c'è piacere vegano a carne ti piace la carne a carne si a carlo in moto va a far panino una massa far panino è la prima volta che state a sta festa quest'anno si questa di dove siete voi di qua tipo me però non siete mai venuti non giovane frecchi niente della festa è il primo anno che ci siete giusto ho visto che ci sta un sacco di aria food dove se magna non mori di fame qua di fame non si muore forse è il cibo che hai visto che più ti piace da mangiare che tu dici stasera ma voglio mangiare questa è la panocchia? la panocchia? la panocchia? la panocchia piace colosoni colosoni se vabbè se stanno a ruotare la macchina se stanno a ruotare la macchina qua ho visto che c'è sta pure il palco c'è pure il palco chi è? c'è sta il palco sapete chi che canta? non avete un gruppo musicale che voi vorreste che ci sia stasera voi non sapete chi c'è però tu speri che cantano cosa? una cantaia non avete idea, forse? cartone animati canzoni di cartone, sigla di cartone animati forse è una musica un po' più movimentata tipo tecno ho visto che ci sta un sacco di aria food cosa è che hai visto che più ti piace mangiare che tu dici omo stasera assolutamente con un modo o mai a me piace ma io vado molto sui panini con l'hamburger o hot dog il panino migliore che tu abbia mai mangiato con l'hot dog qual è con l'hamburger il migliore che tu abbia mai mangiato in assoluto eh oddio da cracco no cracco non credo faccia magari magari poterci rispendere da cracco non lo so qui a torbaianica ce n'è una molto buona che si chiama da coso che è un'ottima panineria e fa di panini molto molto buoni tutti speciali con le cose dentro esatto di quelli che puoi riempire che puoi andare ho visto che stanno a far palco vedi la dietro c'è star palco c'è stata una monta i cantanti sai chi è che canta no cosa vorresti che che ti piacerebbe ascoltare stasera che canta diciamo magari c'è sta un gruppo che mi piace che genere ti piace io vado maggiormente per il rock però anche pop rap anche cose comunque più quindi tu preferire magari sta vasco rossi che dici c'è stavano sì magari non lo so lo scopriremo stasera e siamo alla festa di pomezia giusto vediamo se siete preparate che festa è che festa di pomezia non lo sa e non lo sanno di una cosa non è tipo san benedetto bravo bravo ciazzetta bisogna rischiare ho visto che qua ci sta un sacco di aria food dose magna non morire fame stasera diciamo non morire fame il cibo che più ti piace che visto che sta qua diciamo stasera mo magno che cos'è forse l'infondo i panini i panini i panini raga vanno forte vanno come panino con cosa se non sbaglio con la porchetta con la porchetta raga la vera porchetta tu invece cosa che ti piace mangiare sempre il panino sempre pari a tutto panino tutto panino raga ma qua vische c'è sta un palco qua dietro c'è sta il palco che cantano chi è che canta non lo sai cos'è che ti piacerebbe sentire cantare che genere ti piace di musica allora che altro rap però non penso proprio fabbri fibra ci può o capace che sta fabbri fibra stasera può essere e mai dire ma a te invece che ti piace senti sempre rap sempre questo genere qui toni f c'è sta può essere che c'è sta toni f non lo so lo scopriremo stasera quindi abbiamo visto che un po di gente scesta e i panini vanno per la maggiore ma chi canterà stasera qua sul palco lo scopriremo tra poco con questo sliding doors e tra poco inizieranno i cantanti chissà che canti ho saputo che si chiamano i ghost e non lo so non lo so vediamo che genere fanno ci vediamo tra poco che loro iniziano a cantare a dopo raga nonostante l'età sento il bisogno di una carezza e della dignità il mio nome è la dignità il mio nome è la dignità il mio nome è la dignità e se con i piedi del cuore là avete un nome di me certo in questo mondo qua per la dignità dove l'avete persa non è corso e se per il sopra fine di me qua dunque volte lasciate che succede e dite non è corso ma mia solo i doveri gli spani sopra Grazie! Grazie!